ragazzi buongiorno allora vi voglio spiegare per gli amici che scendono tipo vittorio questi amici qua che vanno ancora al lavoro e non hanno mascherine io propongo di prendere un boxer dal cassetto preferibilmente vitto pulito eccolo qua che fai lo allarghi e te lo metti in testa scendi ecco qua vedi poi che fai metti la mano qua vedi lo allarghi lo giri e ti fai pure il sottocasco preferibilmente con la scritta sopra così vedi se c'è qualche logo simpatico lo metti vedi ti chiudi anche il collo vedi vedi il coronavirus stasicur che non dovevi va buono l'ho studiata proprio per te vitto vedi eccola qua voglio scivoli marotto